Vuole? Devi fare tutto questo rumore. Spostati! Spostati tu! Nel primo omicidio, l'assassino ricostruisce un fumetto, Hulk, e trasforma uno scienziato a esile magrolino in un sacco di muscoli grigio, che è esattamente quello che succede nell'incredibile Hulk 1. E nel secondo omicidio, ricostruisce un altro fumetto, Iron Man, e trasforma un fabbricante di armi in un uomo con un'armatura che ha bisogno di una macchina per far funzionare il cuore. Esattamente quello che succede in Tales of Suspense 39. Insomma, roba da nerd. Ispettore Valentin, vista la tua completa ignoranza sull'argomento, abbiamo pensato che per il caso sia utile l'aiuto di un consulente esterno. Sul serio? Se quella dei fumetti è una scusa per gli omicidi, forse il prossimo crimine si ispirerà a una canzone di Bustamante. Non mi serve una... Ma sei tu che hai detto che ti avrebbe fatto comodo un uomo con esperienza? Sì, ma mi riferivo a un altro Tiburi. Beh, ora ce l'hai.